Dura poco più di tre ore la visita del ministro dell'interno Angelino Alfano a Reggio Calabria. Un'ora in più del previsto. Arriva alle quattro e mezza del pomeriggio sotto la pioggia di una piazza Italia blindata e subito inizia il vertice in prefettura con tutte le autorità. Dal capo della polizia Alessandro Panza ai comandanti generali di finanza e carabinieri fino ad arrivare ai prefetti calabresi. Dopo più di due ore di riunione la teoria di Alfano sulla escalation criminale contro imprese private, amministratori locali e semplici cittadini è quella della vendetta. L'andrangheta starebbe reagendo alla forza dimostrata dallo Stato. Secondo il ministro dell'interno gli uomini dei clan starebbero nuovamente usando metodi di particolare violenza a causa soprattutto di focus andrangheta, una diffusa operazione interforze di controllo del territorio della quale lo stesso ministro cita i numeri nella conferenza stampa tenutasi dopo il maxivertice. Per Alfano dunque l'incendio ai pullman di Federico e allo scuolabus di Martone, gli spari di Lamezia, le auto danneggiate a colpi di pistola al sindaco di Gioiosa Ionica sarebbero la risposta piccata dei clan all'attività repressiva dello Stato e non la dimostrazione dell'egemonia assoluta che mantengono sul territorio. Francesco Creazzo per la Cinius 24